Mentre vi imponiamo che si dà il via da su, ecco quindi il concorso Anari, ma è il terzo concorrente dopo la ripresa della sonda. Ecco, ecco, quindi anche che il cantante canti che il concerto all'interno, eccolo qui, eccolo, eccolo. E poi, vero, giusto il tempo di non vivere, in 30 conti, ricordiamo che durante la conversazione abbiamo avuto. Eccoci, eccoci, abbiamo avuto un gioco continuo. Eccoci, 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 bravissimo, eccoci, eccoci, eccoci. Eccoci, 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 eccoci. E' un errore tecnico, purtroppo le iscrizioni avrebbero la scuola. E' un errore tecnico, purtroppo le iscrizioni avrebbero la scuola. E' un errore tecnico. Ah, io ho capito. 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 Oh, capito. Ah, io ho 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 capito.